Il primo tempo era da 0-0, ci stava tutto, prima fase forse leggermente fuori nostro e seconda fase leggermente fuori loro, quindi nel complesso un primo tempo da 0-0, una partita equilibrata. Il gol subito all'ultimo secondo praticamente ci ha costretti a giocare una partita un po' di rincorso, un po' con l'affanno, sono avuti fuori i nostri limiti, probabilmente anche un po' di preoccupazione, di tenuta mentale e ci ha costretti a fare delle cose un po' frenetiche, anche se devo dire che ce la siamo giocate fino all'ultimo secondo con pericolosità, ovviamente lasciandogli qualche occasione nel finale dove potevano chiuderla. Certamente non è l'esordio che immaginava, magari immaginava un altro tipo di partite, soprattutto un altro tipo di risultato. Uno immagina sempre che vince facile, però abbiamo incontrato una squadra forte, abbiamo incontrato una squadra forte e contro la quale abbiamo fatto la prestazione, abbiamo fatto tutto quello che in questo momento possiamo fare.